...del primo ospite, una giovane di 20 anni che viene da Vessano, Anna Flavia Franza, ti invito a raggiungermi. Cosa dire di Anna Flavia? Siamo qui a questa parte, siamo di Anna Flavia. Adesso si sente, sì. Inizia a studiare pianoforte classico all'età di 6 anni, partecipa a diversi concorsi, tra cui il concorso nazionale di musica premio Città di Brindisi e il concorso internazionale La Vallonea. Dal 2007 si accosta anche all'attività organistica, accompagnando il coro della chissamata di Alessandro. Nel 2012 si trasferisce a Milano, dove consegue la laurea in comunicazione, media e pubblicità, presso la Iulmo, decidendo poi anche di specializzarsi in marketing. Contemporaneamente affianca lo studio del pianoforte moderno, presso l'overdrive studio di Milano, suonando anche in un avvento. Quindi, benvenuta Anna Flavia. Che cosa ci farei ascoltare questa sera alla tastiera? Benissimo, allora puoi salire, puoi accomodarti e prendere posto, in modo tale che possiamo apprezzare la prima performance del primo ospite della serata. Infatti ci sono anche le performance che andranno ad intervattare le esibizioni canore di tutti quelli che hanno voluto essere presenti. Ecco che Anna Flavia prende posto per farci ascoltare questi due brani mixati assieme. Rigorosamente dal vivo suona alla tastiera. Lei è Anna Flavia, Franza. Grazie a tutti. E allora, c'è in cesta sera. Ciao, ciao, c'è in cesta sera. Ci si mangia. Ciao, c'è in cesta sera. Ciao, c'è in cesta sera. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.